Ragazzi prima che inizi il video vi voglio dire una cosa molto importante che mi chiedete praticamente sempre In descrizione c'è un link per comprare server di Minecraft o server TeamSpeak che vi saranno appunto per parlare Se volete dal 16 quindi da oggi fino al 27 ci saranno i sconti del 25% in meno sia sui server di Minecraft che sui server TS Fatemi sapere se avete bisogno di qualche consulenza e nulla, noi ci vediamo dentro il video, vi lascio all'intro, bella Bella a tutti buono, noi sono Marcio e benvenuti in questo nuovo episodio dei troll della domenica Lo so mi vedete con dei capelli diversi e qui non c'è ancora l'isola con del progress perché sto registrando questo video Prima appunto di aver fatto l'episodio dello universe di mercoledì Quindi non vi preoccupate e se sono in creativa è proprio perché comunque posso trollare solo in creativa Le cose le metto tutte nelle varie ceste, quelle che mi servono nell'isola e poi mi rimetto normale Vedete c'ho tutto qua, c'ho tutto qua Peraltro un fan mi ha regalato delle litre, forse l'ho detto anche nel video dall'altra volta Comunque siamo tornati a trollare ragazzi perché i troll sulle universe vi piacciono tantissimo Tantissimo Io vi faccio una proposta A 10.000 like farò un troll sulla vanilla Sul vanilla di appunto Pixel Mi piacerebbe tantissimo farlo, proviamoci E ho letto un po' di commenti che dicevano Di stare tanto su uno e non fare tanti cambi con tante persone Piuttosto di concentrarsi a trovare solo uno Piuttosto che trovarne tanti Comunque vanisciamoci Slash vanish Ora siamo invisibili Andiamo da qualcuno a casissimo Proprio a casissimo Andiamo da 20 fra Oh Ciao bomber Cosa questo Non gliel'ha dato raga C'è rimasto di merda credo Vabbè io lo piazzo qua Perfetto Mi sa che sta facendo un mob spawner Però non è tanto bello bomber così Oddio non è neanche tanto brutto perché te li porta Oddio Ci sta dai ci sta non è male Non è male Comunque 20 fra Io ti metto dietro la cobblestone E non si è accorto di niente Lui non si è accorto di niente Attenzione Ma questo è un colpo di scena assurdo Mentre non guarda Ok Ok proprio mentre non guarda Sì bravo Bravo Bravissimo Sì 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 bravo bomber Bravissimo Proprio Guarda Che tu hai fatto la cosa Ma Ma Lui non ne frega il cazzo Ne frega proprio niente Io te lo piazzo anche qua Sì bravo 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 Bravissimo Bravissimo Sì 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 Hai già capito tutto E qua si riforma tutto Dietro Oh di 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 te Bene che è cobblestone infinita Però Raga è venuto a singhiozzo Mi è venuto a singhiozzo Sto Mario Mi sto malissimo raga Sta malissimo Quelli che toglie Ne mi metto Sto male Sto Mario raga Sto un botto Mario Ora sapete cosa faccio Li faccio Troll Troll Aspetta Troll Blocco 53 No ma 53 no Come che Com'era il diamante raga Com'era il diamante 56 Ma che sto a fa Ma che sto a fa Ma che faccio mai Facciamo così Facciamo così E mettiamo 56 Ma proprio un sciallo raga Proprio sciallo Proprio sciallo 20 fraschi Qualcosa Non ho scritto niente Ok Non la vanish Copredito Non Non è una lista In vanish Ok raga Scialli Scialli che non ci hanno sgamati Scialli che non ci hanno sgamati Basta fare Thelma da Marci E ti va No non fatelo raga Se no vi to Ok va bene Ho capito che devo disattivare i messaggi MSG Toggle Perfetto Ho disattivato No com'è Ho disattivato i messaggi E lui mi sta guardando Il blocco di diamante Non riesce a spaccarlo raga E' un attimino nel panico Guarda che è diventato cobblestone Bomber Mi sa che ti sei sbagliato Mi sa che ti sei sbagliato un foto Raga Ma bomberissimo Ma che stai a dire Ma che cosa fai Ma bomber Guarda 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 Cosa diventa diamante Ma che cazzo Ma che cazzo Ma stai a scherzare Appena ti giri bomber Questo diventa co Diventa cobblestone No raga sto male Questa continua a spaccarlo Sto cercando di spaccarlo L'ho finito Aspetta Gli metto uno dietro Gli metto la cobblestone dietro Così si gira Vede la cobblestone Dai bomber su Dai eh No è Bravissimo Bravissimo Guarda È diventata Così È diventato Così Bravissimo L'hai perso E io ti metto la cobblestone Ma che top Ma che benessere Ma che top Allora aspetta raga Io vorrei far Ok lui ha visto che c'è il blocco di cobblestone Nel senso che lui comunque può spaccare Io non sto controllando se in chat sta scrivendo Però Diciamo una cosa del genere Bloco 56 Li mettiamo lì Ah non sapete dove lo mettiamo Lo mettiamo qua il blocco 56 Io l'ho tolto Giuro che gliel'ho tolto Giuro Sto giurando raga Sto giurando Ma no Ma non l'acqua raga Non l'acqua Ma no Questo di Guarda È diventato diamante È diventato diamante Raga Sto Mario Te lo metto io a posto Tranquillo bomber Tranquillo Che hai fatto io Guarda Proprio sciallo Non ti preoccupare Lui è un po' nel panico eh Lui è nel panico generale Perché non sta capendo Che cosa sta succedendo Allora Li togliamo questo blocco E sapete cosa facciamo Li togliamo Aspetta occhio Bravo Ok Adesso vai a metterlo di lì Vai a metterlo di lì No dove è andato Va non è caduto raga Ma va raga Non ci Ah ok è sceso È sceso Che lui respona Qua No qua c'è la mucca di ventifra No ventifra dove sei andato Ventifra Oh Ciao ventifra È un casino bomber È un casino Non puoi salire No non puoi Non puoi Non puoi You don't You don't puoi Niente Il bomber Il bomber ci ha sgamati E io Io non scrivo niente Io non scrivo assolutamente niente Proprio proprio niente Perché guarda Sono sicuro che ci conosci Quindi lo mollo Lo mollo Ciao bomber Ti mollo Sì raga Questo non ho appena iniziato l'isola Che benessere Che benessere Guardate Wait Guardate 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 Oh 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 Diventa diamante Diventa diamante Diventa diamante Aspettiamo Io lo spacchiamo È diventata una zucca È diventata una zucca È diventata una zucca Però questa la puoi prendere Bomber La puoi prendere Sì Che top Raga sta uscendo E risalendo l'acqua Sì Davimaster Sì 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 Bomber Così ti voglio Carico No raga No raga Gli avvantaggiamo questi qua Gli avvantaggiamo Che tanto non hanno fatto niente Guardate che facciamo Raga Wait Wait No ci hanno sgamati Ci hanno sgamati Ma sei te Davide ha scritto È il momento è ora È il momento è ora Raga È il momento è ora Deve crescere Deve crescere Deve crescere Cresci albero della giungla Cresci Cresci Dai Raga Raga Ora dovrebbe crescere Vai C Raga Guardate La risa Sto male Sto malissimo Sto male Sto male raga Sto malissimo Ve lo giuro Ve lo giuro che sto un botto male Sto un botto male Questi manco Sono a corte dell'albero gigante L'albero Raga L'albero 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 Ok Io vi lascio il diamante Lì adesso Questi in teoria Magari pensano che Davvero sponi il diamante Io sto malissimo Ma scusate ragazzi Dovete Raga Questi sono impazziti Questi sono impazziti Ok Ok bomber Bravissimo Bravo L'albero della giungla Però non ti Non dici niente Cioè tu non stai dicendo niente Per questo albero Senti ragazzi Sponiamo anche quello di Darkoak Tanto Non è che li stiamo avvantaggiando Più di tanto Va bene Minchia raga adesso Adesso raga Adesso Raga Raga Non so perché Secondo me Scritto Erwin Ci ha sgamati Lo so cosa fare Perché ormai C'è uno schiavante 100% Dopo averli messo Vabbè insomma Io adesso gli scrivo Ciao sono Marci Piacere 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 Marci Così proprio così Di cattiveria Proprio così Dove sono spariti Ok Devi guardare il cartello Raga Aspetta L'ho letto qua Ciao Sono Marci Oh Là Ciao 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 Però no No Non devi aprire le gallerie Non devi aprire le gallerie Ok Ovviamente ci hanno sgamati Palese E vorrei sapere la loro risposta Perché Buonasera Buonasera Calma raga Non ci hanno sgamati ancora Calma 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 Lui ci conosce Davide Master Non mi faccio trollare raga Non mi faccio trollare Non mi faccio trollare Loro Loro Sono sicuro Che mi conoscono Aspetta Ora dico E io che volevo salutarvi in un video Vediamo se li trollo E io E io Che volevo Salutarvi In un video Puntini puntini Vabbè La mettiamo così Vediamo se lo leggono Qua 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 Bomberissimi qua Guarda qua E qua Ok Lo devi leggere Ok Bravissimi Bravi Adesso gli scrivo io che volevo salutarvi in un video Guarda di No Marci No Non ci credo Bordello No Per favore Ti prego Ti supplico Dovete mettere il cartello Raga il cartello Non è difficile mettere un cartello Pesa 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 Attenzione Potrebbe esserci il colpo di scena Proprio maestoso Notevole Spaziale Cioè aggettivi che non stanno assieme Bene Cosa ha scritto? Raga gli ho scritto Davide Master con la faccina così E vabbè E vabbè Vediamo se ci risponde in chat Cosa? Sta male Sta male No vabbè Non ci credo Non ci credo raga Non ci credo raga Vabbè Ehm Ok Bene Visto che non ci conoscono O forse ci conoscono Ma trolano Io gli vorrei dar fastidio lo stesso Quindi faccio una cosa del genere Che bene essere Che top Ok Cresciuto Ok No beh Questo qui no Magari qua no Ok Facciamo una cosa Ma qua non crescerà mai quello di giungla Però se crei Hai osato davvero? Davvero Davide Master? Davvero? Davide Master Davide Master Mannaccio a te Davide Master Mannaccio Mannaccio a te Davide Master Eeeh Davide Master Siete pieni di te Di legno Non di terra Lo spacchiamo un po' Vediamo se cresce Raga ne piazza un altro Raga ne piazza un altro Che mamma mia Insi Ciao Guarda come te l'ho ripreso Il jungle così Aaaaa Vediamo qua C'è il cannechi black Vediamo un po' Sei proprio un burroe Lo sapevo che mi conoscevi Lo sapevo Non mi hai trollato stavolta Non mi hai trollato Ragazzi Spero che questo troll Vi sia piaciuto Mi invito a lasciare un like Ed un commento E noi ci vediamo Ad un prossimo video di troll Settimana prossima Ciao a tutti Bella Ciao a tutti